Benvenuto a Parigi, Joseph. Merci. Temo che non sia il luogo giusto per uno come lui. Ha molti talenti, ma uno in particolare è straordinario. Molto bene. Mi resi conto che più eccellevo, meno ero solo. Eravate così competitivo? Il gradasso che ha rovinato il concerto di Mozart. Posso suonare con voi, monsieur? Spero che non vi crei imbarazzo. Chi è Cortuni? Siete un uomo straordinario, Joseph. Io, Marie Antoinette, regina di Francia. Qui vi nomino... Sevalier. In altri paesi uno con la vostra pelle non indosserebbe abiti tanto preziosi. Un giorno il mondo intero saprà chi sono. E di certo la musica sarà spettacolare. Audace. Non è il vostro posto. Siete una burla da festa. Una scimmietta che suona il violino, nient'altro. Sapete che sono io il migliore? Stai giocando con il fuoco, mio caro. Dimenticate la vostra posizione. Spezzategli le dita. Questo mondo è doloroso per noi, figlio mio. Ma si può sempre scegliere di lottare. Preparo un concerto. Finanziamo la rivoluzione. Non posso permettermi ulteriori nemici. La Francia sta cambiando. Potresti essere più influente di quanto credi. Sfruttalo. Salite sul palco e sarete cancellato. Non ci sarà una nuova Francia. Non sovvertirete ciò che ha ordinato Dio. Non tutto gira intorno ai monarchi. Non sovvertirete ciò che ha ordinato Dio. Non sovvertirete ciò che ha ordinato Dio.